Buongiorno e ben ritrovati a Mindset, il programma di chiacchierate sulla psicologia ed intorni qui dall'ospedale Maria Luigia di Monticelli Termo in provincia di Parma. Io sono Alberto Grossi. Oggi do il benvenuto a un ospite alla quale sono anche legato da amicizia, che è la dottoressa Cristina Magni, psicologa e psicoterapeuta. Buongiorno Cristina. Buongiorno Alberto. Appunto psicologa e psicoterapeuta dell'equipe LIVES, che è un'equipe che svolge un lavoro importante qui al poliambulatorio del Maria Luigia. Oggi abbiamo deciso con Cristina di parlare anche e soprattutto direi di cinema, ma di quello che poi il cinema ci suggerisce a livello di riflessioni e di alcuni film che andremo un pochettino a toccare, che ci raccontano tanto anche di noi, della nostra identità e di chi siamo. Vorrei partire Cristina da un film piuttosto recente di un anno o due fa che si chiama Perfetti Sconosciuti. Credo che gli ascoltatori lo ricorderanno perché è il film in cui i commensali di una cena, essendo amici di lunga data, dichiarano di non avere nulla da nascondere l'uno con l'altro e condividono i messaggini, le telefonate che arrivano sui telefonini che depositano appunto sul tavolo della cena. Da lì però poi dopo si scoprono tante cose. Allora io insomma così ti chiedevo qual era un po' anche la tua opinione di psicologo ovviamente in merito anche a questo film. Beh, in questo film emerge evidentemente quanto di fatto le relazioni in questo film sembrano essere molto affiattate, sembra ci sia grande sintonia fra i vari amici e anche in alcune coppie. In realtà risultano essere delle non relazioni perché quando il gioco inizia a farsi... Il titolo Perfetti Sconosciuti. Perfetti Sconosciuti, esattamente. Perché in realtà si scoprono proprio grazie a questo gioco, possiamo così dire, anche gli scalettri nell'armadio. Quella che è poi la doppia vita di ciascuno di questi individui e emerge proprio l'individuo in quanto tale e scompare quello che è invece la relazione. Quindi i partner si scoprono a vicenda, anche le coppie scoprono parti intime della propria vita al gruppo di amici. È davvero una riflessione che ci porta a chiederci che tipo di relazioni realmente vogliamo coltivare nella nostra quotidianità. Ci si chiede anche quanto, in questo caso, il telefonino, poi si aprono anche delle riflessioni altre sui social, eccetera, possa diventare un altro contesto nel quale coltivare e vivere la propria vita. Un telefonino magari con il quale la gente magari si mostra, magari mi riferisco al mondo adulto, ma anche al mondo dei ragazzi, più audaci di quello che non sarebbe nella vita reale in una relazione, come dire, faccia a faccia. Sì, viene anche infatti definito proprio nel film la nostra scatola nera, dentro la quale troviamo le nostre fotografie, i video anche più intimi della nostra quotidianità. Tutto sta nel scegliere con chi condividerli e quale tipo di coerenza vogliamo dare alla nostra vita. E talvolta emerge nel film anche come magari sia più facile condividere determinate cose anche intime, personali, con uno sconosciuto che magari, appunto, con quale non si ha una relazione diretta, piuttosto che con l'amico di una vita o addirittura col proprio partner. Sì, dove, peraltro, inevitabilmente ci si sottopone al giudizio dell'altro. Quindi lo si vede poi, guardando il film in particolare, rispetto ad uno di questi individui, insomma, l'accettazione da parte degli altri delle proprie individualità e anche delle proprie vulnerabilità. Certo. Ecco, Cristina, sempre un paio d'anni fa circa è uscito un altro film che ha avuto anch'esso un grande riscontro sia di pubblico ma anche di critica, che è La Pazzagioia di Virzi, che è la storia, lo ricordiamo, che nasce all'interno di una comunità di accoglienza dove ci sono due donne con differenti storie, differenti anche background sociali, entrambe con dei traumi, una in particolare, alle spalle, e che si danno, come dice il titolo del film, appunto alla Pazzagioia, cioè questa fuga un po' anche che nasce in maniera episodica e anche fortuita, e quasi alla ricerca di una felicità o anche forse di un riscatto sociale. Tu come lo vedi questo film? Beh, questo è un film che nasce, si apre proprio all'interno di un ospedale giudiziario, tra l'altro una nota interessante che viene girato proprio insieme anche a persone effettivamente presenti in questo ospedale, ed è interessante vedere come appunto dicevi tu queste persone che si incontrano in modo così accidentale, con storie travagliate, abbiamo una persona con un disturbo bipolare di personalità che interpreta eccezionalmente la patologia, una persona con un disturbo depressivo, insomma, che si ritrovano insieme e decino di fuggire e di scoprire una libertà un po' anche in preda anche alla propria follia. Su questa libertà ci fermiamo un momento e lanciamo una pausa musicale. Stavamo parlando della pazzagioia di Virzi, Cristina. Dicevi di quest'idea di libertà. Sì, una libertà che appunto si sviluppa insieme a un modo autentico con la follia che caratterizza queste due donne, ma che è la ricerca anche di una felicità. Viene citato ad un certo punto nel film una felicità che si trova nelle piccole cose, nelle cose belle, nelle tovaglie di fiandra, nelle persone gentili. È un po' come una ricerca di una felicità che si sviluppa in una quotidianità vicino agli affetti, vicino alle relazioni. Infatti tornano, tornano alla ricerca delle relazioni che sono state lasciate nella vita. Però sono relazioni con quegli altri considerati sani. Ecco esatto, perché qui il regista ci sembra poi alla fine in maniera molto sottile, ma anche molto abile. Ci sembra quasi dire che il mondo dei, tra virgolette, sani non è poi più sano di tanto rispetto a due persone che hanno dei disturbi abbastanza evidenti di personalità. Esattamente. Infatti io sottolineerei l'importanza di parlare degli altri, cioè di coloro che sono diversi da noi, più che distinguere tra sani e malati. Abbiamo una prospettiva più su un continuum, dove però questi altri risultano essere particolarmente inadeguati. hanno relazioni superficiali, hanno un modo di porsi nella relazione assolutamente non empatico e non vicino all'essere umano. Cosa che sorprende invece nella relazione fra queste due donne. Proprio loro, paradossalmente, sanno essere presenti reciprocamente come esseri umani a contatto l'uno con l'altro, sanno essere empatici e si accompagnano a vicenda. Sanno anche aiutarsi. Tanto materiale per una psicologa. Molto interessante. Anche direi un po' lo spaccato che viene dato molto velocemente di quello che accade all'interno dell'ospedale. C'è questa equipe che si riunisce, questa distinzione fra gli specialisti, quelli che sono più intimoriti e legati alla patologia, come una condizione dove è difficile vedere un'evoluzione. Poi troviamo invece una specialista che con questo patto terapeutico invece cerca di dare spazio all'essere umano che è davanti a sé. Ecco, Cristina, abbiamo parlato prima di libertà. Allora, io ti vorrei citare un film che personalmente ho amato moltissimo, che è Into the Wild, girato da Sean Penn, in questo caso regista, anziché attore, che è la storia di Christophe Mackenzie, questo giovane di una famiglia anche benestrante, che rinuncia dopo la laurea un po' a tutto quello che era una carriera pianificata, tutta una serie di certezze, anche di sicurezze economiche, per andare a rincorrere una natura sempre più selvaggia, della quale poi, ahimè, rimane anche vittima. Qui ci sono tanti temi in questo film affrontati. Allora, devo ammettere che anche io amo tantissimo questo film, follemente, anche per la colonna sonora, insomma, trovo che sia eccezionale davvero, dia tantissimi spunti. Difficile adesso qua. E anche degli attori straordinari. Essere sintetici, certo, assolutamente. Beh, è un film in cui è evidente che la fuga diventa un tema centrale, anzi, inizia proprio con una fuga, una fuga, come viene detto nel film, dalla civiltà, una fuga verso la natura selvaggia, dove, proprio come dice il protagonista, ci si incammina da solo. È una fuga però anche dalla storia e dalla propria storia, quella della propria famiglia, delle proprie origini, dove, insomma, ci si trova di fronte a degli schemi predeterminati, un po' per il contesto sociale, ma anche per il contesto culturale della famiglia di provenienza, dove, insomma, sembra che l'evoluzione dell'individuo sia definito. E non c'è il riconoscimento dell'individuo stesso. Non ci sono relazioni autentiche, la relazione tra il padre e il figlio non esiste. Il figlio vive in una famiglia in cui anche la relazione tra i genitori di coppia non esiste. È una relazione che è in piedi per il lavoro condiviso. Però di troppa individualità alla fine si muore. Di troppa individualità si muore. In realtà il protagonista cerca questa individualità e questa fuga lo porta ad un viaggio interiore. Un viaggio interiore che è un po' una riscoperta di sé. Lui dice che in realtà ci si sbaglia se si pensa che le gioie della vita vengano soprattutto dai rapporti tra le persone. Dice che Dio ha messo la felicità in tutto ciò di cui possiamo fare esperienze. Lui proprio ricerca l'esperienza, quella più atavica dell'uomo selvaggio. Viene messo un po' in discussione l'attaccamento dell'uomo alle relazioni. Però in fondo, in fondo, quello che emerge alla fine è che l'uomo è un animale sociale. E che quindi la felicità... E che trova senso nelle relazioni. Sì, è solo se condivisa. Cristina, siamo giunti alla fine di questa puntata. Io ti ringrazio moltissimo per essere stato nostro ospite. Vorrei però ricordare i nostri ascoltatori che hanno la possibilità di scriverci e anche di suggerirci in questo caso magari se tornerai a trovarci dei titoli di film di cui parlare. Abbiamo una casella di posta elettronica che è radiochioccio alla ospedale marialuigia.it che è proprio aperta al nostro pubblico e che appunto possono scriverci. Tornerai a trovarci? Molto volentieri. Grazie di essere stato nostro ospite. Grazie a voi. Grazie a voi.